Mi chiedono un cambio alla pari tra Salamino e Capocotto. Un'ora di bene, un po' fatti dopo. Contra tre dopo. Con due Salamini. Uno, due. Siamo dei Salamini. Metti bocce di vino perché col cibo si sta bene il vino. Vai, grazie. Grazie. Ringraziamo gli altri finalisti. Sì, lento. Allora, al secondo posto. Allora, al secondo posto. Dai, io, io, a me. Maicini, Lottini. Maicini, Lottini. Il vino glielo può dare. Grazie. Allora, una combattuta finale per il zero. No, no, aspettate il bello. Devono capire che la tua cia non è stata da fare. Vi do due bottiglie di vino. Sono giovani, mi raccomando, dateli alla barba. Sì, sì. Il capocollo che te cambierai con qualcuno. Oh, 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 è fuori. Stai venendo. Stai venendo in grambola, amore. Una scena dagli attortenati. Bravi. Sto appuntamenti. Per il secondo posto. Bravissimi, bravi. E' il suo reggioramento. Arriviamo. Oh, 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 oh. Non fai, come c'è. Buon tempo. Ti sta prima, bene. E' il suo reggioramento. Oh, oh, oh. Dai, ti sta prima, bene. Oh, 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 oh. E' il suo reggioramento. Io mi colpio dopo, non vi preoccupate. Ti premio. Tutti lì. Bolla il borsello. Bene, bene. Ti premio con la coppa del primo classificato. Una coppa bellissima. Wow. Che sta a fare di rapporto. Attenzione. A loro due buoni da cara calzature del valore di 50 euro per comparte le scarpe. Va, va la foto qua. La foto di là. Va la foto. Ci tanto che ho la foto per l'altra parte. Va, va la foto di là. La dare al parisario. Ragazzi, non ho badato a spese. Non ho badato a spese. Eeeh. Bene, bene, bene. Per dichiari. Fight, un contesto dei bagnetti. La coppa per il decentore del titolo per quest'anno va all'Aeronautica. All'Aeronautica. L'anno prossimo speriamo che vada ai bagnetti nostri. Gli stronca le gambe qualcuno, per favore. Grazie.